Buongiorno, si accomodi prego, li grazie e rimanga un secondo in piedi per leggere ad alta voce la formula con cui si impegna a dire la verità. La ringrazio, si accomodi pure. Parlando al microfono, rispondo alle domande che le faranno, noi parti, cominciando la difesa, prego. Avvocato Righi, difesa Minetti, buongiorno. Lei conosce l'onorevole Berlusconi? Sì. Si può dire quando l'ha conosciuto, se ha dei rapporti di lavoro con lui, se ha dei rapporti di amicizia e di frequentazione? L'ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta quando ero in Mondadori, poi siamo diventati amici e ho lavorato con lui in varie occasioni, prima a Panorama, poi a Verissimo, poi al TG5, questi sono i miei rapporti di lavoro. Anche attualmente? E adesso a Medusa, di cui sono Presidente. Benissimo, grazie. E ha mai frequentato l'abitazione, la residenza di Arcore? Sì, mi è capitato varie volte di frequentare la residenza di Arcore perché avendo lavorato con Berlusconi, ovviamente ho rapporti sia di lavoro sia poi rapporti di amicizia maturata nel corso degli anni. Ovviamente non frequentemente, tutte le volte che lui ha avuto bisogno di parlarmi, sono andato. A noi interessa particolarmente verificare una sua eventuale presenza negli anni 2010-2011 e io adesso le farò alcune domande per vedere se lei è stata presente in occasione di alcune cene. Parliamo di alcune cene alle quali avrebbero partecipato delle giovani ragazze. Io sono stato una sera, mi ricordo forse all'inizio dell'inverno, a vedere una partita, poi sono stato a Natale, l'anno prima nel 2009, la sera di Natale, a fare i saluti, poi sono stato a una cena molto breve, a cui sono stato brevemente, penso, nella primavera, ma esattamente non la so collocare, poi alla cena del 19 settembre 2010 era, questa me la ricordo bene. Ecco, se ci può descrivere come si svolgevano queste cene, ovviamente per la parte in cui lei era rimasto presente. Ma la cena in cui sono stato brevemente, ho salutato, ho mangiato una cosa e poi me ne sono andato abbastanza presto, quindi di che avevo da fare. Ero andato a parlare col Presidente e alla fine mi dice fermati a cena. La cena del 19 era un po' la stessa cosa, nel senso che... Il 19 settembre. Il 19 settembre. Lui mi ha detto fermati a cena, io mi sono fermato a cena, sono rimasto, la cena è durata dalle 10 e mezza alle 12 e mezza, alle 12 e mezza si è scesi sotto nell'aula sotto, io sono rimasto un quarto d'ora esatto, ho anche il mio taxista con un certificato che si ricorda, fattura diciamo, e sono andato via alle 12 e 45, sono rimasto praticamente sotto il tempo di bere una cosa e di salutare. Ecco, si ricorda quante persone erano presenti unitamente a lei alla cena? Ma c'era una tavolata, 20, 24 persone, non lo so perché mi sembrava un tavolo 12, 12, 24 più, non so se ci fosse un capotavola o meno, ma non c'era un capotavola perché Berlusconi era seduto in mezzo alla tavola, la tavola era molto grande, la stanza grande, c'erano delle ragazze, poi c'ero io, e poi c'era Emilia Fede, no, non conoscevo nessuno, non ne conoscevo nemmeno una, quindi tutte mi salutavano ma io non conoscevo nessuno perché conoscevano me, perché vedendomi in televisione eccetera, ma io non conoscevo nessuno, ma mi salutavano, mi davano del lei, per fortuna io davo del lei, e quindi è una mia abitudine, e quindi niente, poi quando, poi alla fine c'è stata questa serata, devo dire una serata dove c'erano le ragazze, erano vestite come le ragazze quando vanno in discoteca, cioè abiti corti, neri, erano tutte vestite di nero e quindi anche lì, quando tutte le persone sono vestite uguali è difficile ricordarsele, poi c'era il Presidente, c'era Emilia Fede che era all'angolo, tranquillo, a me, e io ho visto, c'è stata molta musica, cantavano, rumore, il Presidente andava e veniva, io ogni tanto uscivo, anch'io perché il rumore mi dava fastidio, e poi c'è stato questo, il famoso, io ho già fatto una deposizione con la dottoressa Boccassini all'Alto Processo Berlusconi, c'è stato questo trenino, carosello diciamo, con le ragazze che giravano attorno al tavolo, c'era un'atmosfera diciamo molto, definiamo gioiosa, ecco, se vogliamo definirla, molto, molto festosa, era un po' come quelle feste che si fanno un po' in provincia, tutto è sotto, attorno al tavolo, si balla, si canta, il Presidente ballava, no, non ballava, cantava, ha cantato, perché il Presidente non balla mai, ha cantato canzoni francesi, poi ha fatto discorsi politici anche, dicendo alle ragazze che era meglio impegnarsi in politica piuttosto che impegnarsi in altri settori dello spettacolo, perché è difficile fare carriera, e poi c'era la musica, c'era un tastierista che suonava, anche le ragazze cantavano questa canzone, meno male che Silvio c'era, hanno cantato tipo 7-8 volte, io devo dire che non mi ricordo di nessuno, nell'altro processo, la dottoressa Boccassini mi ha chiesto, lei ha detto a una ragazza, lei è una faccia dell'attrice, ho detto sì è vero, c'è una ragazza che mi aveva colpito, forse mentre stavo uscendo, ho detto, ah lei è un volto dell'attrice, mi ricordavo un po', mi ricordavo quelle attrici degli anni 70, e poi la dottoressa Boccassini mi ha detto, questa ragazza era la signora Tumini, ma devo dire che io appunto ho ammesso di avere detto questa frase, e poi si è sceso nell'aula, della famosa aula definita del Bunga Bunga, nella quale io ho visto che c'era questo palo nell'aula, e poi io mi sono seduto, ho parlato un attimo con Berlusconi, c'era della musica, e poi dopo un quarto d'ora, le 12.45, io me ne sono andato. Anche lì c'era il personale di servizio? Sì, c'è sempre il personale di servizio, una presenza continua, c'era il tastierista, c'erano tutte queste persone. In entrambe le case hai avuto occasione di vedere qualche spogliarello, qualche ragazza a saldarsi? No, io non ho mai visto spogliarelli lì dentro, le ragazze avevano degli abiti come quelli che mettono le ragazze quando vanno in discoteca, cioè sono abiti... Un po' succinti. No, non succinti, abiti da discoteca. Corti. Corti, sì, non sono certo adatti per andare a un'udienza in Vaticano, però erano abiti succinti, come vestono le ragazze in discoteca, cioè io non frequento le discoteche, però le vedo in televisione, eccetera, come si vedono anche nelle trasmissioni televisive, un po' non c'è molto in vista, diciamo. Oltre alla signora Tumini con la quale ha scambiato questa... Sì, ma io non sapevo chi fosse, l'ho saputo dopo quando me l'ha detto la dottoressa Boccassini. Ecco, ha conosciuto qualche altra ragazza quella sera o nell'altra sera, tipo la Nicol Minetti la conosce? No, non la conosco, non l'ho conosciuta, poi ho scoperto che stava lì quella sera, ma io proprio la Nicol Minetti non ha avuto modo di conoscerla. Io ho un'altra domanda, grazie Presidente. Roccato Pantano, lei ha domande? Pubblico Ministero. Rossella, buongiorno. Buongiorno. PM incontro esame. Allora, la scena del 19 settembre, perché a noi interessa la scena del 19 settembre, la signora dottoressa Tumini è stata sentita nell'ambito di questo procedimento, anche dell'altro, ma qui si discute ovviamente di questo. E terminerò la domanda implicando anche dichiarazioni... Possiamo dare il scontato che ci sono altre... Dichiarazioni... Ci sono dichiarazioni diverse. Diverse. Ma... Ma la signora Tumini descrive quella serata in termini del tutto antitetici rispetto a quelli che a testè riferito lei, per la parte di serata in cui lei è rimasto. Poi ragioniamo su quanto è rimasto. Dicendo che già durante la scena, che lei ha descritto in termini così, goliardici, di divertimento, con queste canzoncine e via dicendo, invece questo trenino, non era questo trenino innocente, goliardico, ma già da quei momenti ci sono state le prime interazioni sessuali. Lei è persona colta, quindi sa perfettamente, non c'è bisogno di specificare. I primi contatti, diciamo, che poi invece sono stati implementati, direi non nell'aula, ma piuttosto nella discoteca, che l'aula è questa, o un'aula di classe, dove invece questi contatti sessuali si sono fatti più espliciti tra le ragazze e il dottor Berlusconi ed Emilio Fede. Tutto nel presupposto dell'accusa, della pubblica accusa, l'ipotesi accusatoria, che questa attività sia oggetto di una intermediazione, anche per non dare l'impressione di volere sindacare i comportamenti privati, non è nostra intenzione. Altri testi, la signora Tumini, la dottoressa Tumini, ha raccontato questa serata, prima l'ha concertata, per così dire, o comunque ne ha parlato con la signora Minitti, il consigliere Minitti, dopodiché ne ha parlato ex post. Senti, però, c'è un'opposizione una domanda. Ma la faccio finire, poi dopo le do la parola. Dopodiché ne ha parlato con delle sue amiche, che sono la dottoressa Valentina Battarra e la dottoressa Maura Vadalà, tutte ragazze, giovani donne, ragazze di Rimini, laureate e via dicendo. Altri testimoni, dottor Rossella, hanno dato una versione in linea con quello che lei sta dicendo stamane, almeno fino adesso, cioè che questa serata non comprendeva, non prevedeva nessun momento di contatto sessuale, di scorribande erotiche, tantomeno, diciamo, di balletti, di danze erotiche, tantomeno di contatti e di interazioni sessuali. Questo per onestà intellettuale, per correttezza verso le difese, innanzitutto verso il tribunale. Allora, lei è sicuro a fronte di una descrizione così doviziosa dalla signora Tumini che la serata non abbia presentato quei profili che io invece le ho descritto? Ecco, io prego il test di non rispondere subito perché c'è una eccezione. C'è un'opposizione a questo genere di domande perché non sono domande sui fatti ai quali eventualmente il test potrebbe avere assistito, ma sono domande che ricostruttive un po' della storia di questo processo che contengono addirittura argomenti quali la finalità o l'impostazione dell'accusa o nel caso di specie addirittura l'eventuale concertazione della serata tra la signora Tumini e la signora Minetti di questo credo che non possa essere chiesto conto al dottor Rossella e quindi questa sovrappondanza pur essendo in controesame direi che non è consentita. Allora, al dottor Rossella è stato chiesto unicamente se a fronte di una descrizione diversa che è stata sintetizzata necessariamente presa da alcuni testi e della concordante con la sua descrizione lui sia sicuro di quello che ci ha appena detto e questo è il limite della domanda. Ma io ho detto quello che ho visto non posso parlare di quello che non ho visto certo, ma infatti è rispetto a quello che lei ha visto io non ho visto le scene erotiche io non ho visto ho descritto ovviamente un'atmosfera diciamo allegra molto allegra ma io le scene erotiche che non ne ho viste forse non lo so dove per scene erotiche glielo dico io perché non mi si può non porre si intendono toccamenti o robe del genere no, io queste cose non ne ho viste parziali coperture di parti intime seno eccetera eccetera no, io queste cose qua non le ho viste almeno per quanto per quanto sono rimasto lì magari finché è rimasto lì fin quando sono rimasto lì o sono successe quando io sono uscito perché per il rumore è chiaro che lei non può essere sono uscito tre o quattro volte tre volte diciamo adesso ho ripostruito questo mi scusi mentre era su mentre ero su sì sono uscito ancora nella sala da pranzo sono uscito una volta per andare in bagno adesso scusate questi particolari ma una volta sono uscito per andare in bagno il bagno era occupato la gente che si faceva che si truccava probabilmente e ho dovuto aspettare una decina di minuti un'altra volta poi ero c'era questo rumore scusate ma c'ho un po' di bronchite c'era questo rumore pazzesco perché fra il tastierista queste che cantavano tutti che cantavano eccetera e anche lì sono uscito a riposarmi un attimo dal rumore sono stato cinque minuti ecco questi sono poi alle dodici e mezza si è scesi e io sono sceso e lì il tempo di bere una vodka di fare due chiacchiere col presidente il presidente mi ha accompagnato all'uscita io me ne sono andato a partenza alle 12.45 ritorno se il presidente vuole le posso allegare la carta del mio autista alla ricevuta non c'è bisogno la carta del suo la ricevuta del taxi la ricevuta del taxi ah la ricevuta del taxi perfetto comunque lei dice di essere andato via all'incirca alle ore 12 alle 12.45 12.45 senta lei ricorda lei poi ha visto il volto di Nicolmi ha detto che non la conosceva giusto Nicolmi la conosce però poi l'ha visto il volto in televisione di Nicolmi quindi adesso retrospettivamente la riconosce nella serata si si retrospettivamente la riconosce benissimo lei è in grado di dirci che atteggiamento aveva se ha fatto qualcosa di particolare no ma io l'ho vista in mezzo a questo gruppone e quindi non è che poi esatto non ho non l'ho riconosciuta quando poi l'ho vista in televisione di ah ma è lei allora come succede quando si è ovvio ma non l'ho vista devo dire in azione ecco non ho visto nulla di particolare che quindi lei non ha ricordi rispetto a questa persona che ha riconosciuto successivamente di atteggiamenti persi da quella che ha no non ho ricordi perché nel gruppo nella confusione non me la potevo certamente non me la potevo certamente 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 ricordare ecco lei ovviamente come non mi ricordavo la signora Tumini alla quale avevo detto lei ha un volto da attrice ma me l'ha ricordato la dottoressa Bocassini quindi se io le chiedo che tipo di atteggiamento avesse quella sera la signora Tumini mi pare di poterle dedurre che lei non è in grado di dircelo se lo ricorda no non sono in grado di dirglielo però devo dire che aveva mi aveva incuriosito perché aveva un aspetto molto particolare che cioè cosa vuol dire distonico rispetto all'ambiente o particolare in sé era molto chiuso in sé poi vedo ho letto sui giornali ho sentito che anche la la signora Tumini ha detto che io ero chiuso in me quindi eravamo due persone chiuse in loro probabilmente si sono si sono poi esatto con la comunicazione fra rispettive chiusure come succede nei film bene come succede nei film senta il dottor Fede se lo ricorda una sera il dottor Fede è un amico io me lo ricordo seduto all'estrema sinistra del tavolo ecco ma è sceso in questa saletta arrivita a discoteca il dottor Fede c'era c'era il dottor Fede quando lei è andato via era ancora lì sì credo proprio di sì credo sia ancora lì bene c'è il procuratore prego Rossella vorrei capire questo ma in questa allegra compagnia lei che cosa ci faceva? io ero andato lì per parlare col presidente a un certo punto il presidente mi dice fermati e io mi sono fermato siamo andati nella sala da pranzo quando si è aperta la porta io ho visto che c'era tutta questa questo gruppo di persone di ragazze ma ero mi sono seduto per cenare poi avevo poi veniva tardi avevo anche una gran voglia di andarmene di andarmene a casa perché in genere io vado a letto molto presto quindi la serata diventava più andava avanti con l'ora più diventava un po' lei non ha pensato che la sua presenza potesse avere attinenza con con dei contatti per esempio di natura professionale nella sua qualità di presidente mi pare della Medusa ma devo dire che quando mi ha presentato Berlusconi non ha detto che io ero presidente della Medusa però mi pare che fosse un fatto abbastanza dottorio lo sapevano tutti che io ero presidente di Medusa certo perché io lavoro nel cinema e quindi ragazze che potevano essere interessate a un lancio ma non guardi non è certo in una cena che una che una ragazza che vuole affermarsi nel cinema può cioè io sono uno che quando devo parlare con delle persone che vogliono fare del cinema vengono nel mio ufficio e parlano alla presenza di qualcuno dell'azienda e si parla si presenta e ci si conosce non è certo una cena un'occasione per conoscere le persone almeno dal mio punto di vista non lo è comunque nessuna delle ragazze presenti le ha fatto presente scusi di essere interessata le ha chiesto ma qualcuna forse è venuta diciamo ha detto ah lei è presidente di Medusa mi piacerebbe fare del cinema ma sono quelle cose che si dicono alle cene quando ma non non c'è stato proprio un assalto diciamo una richiesta di un appuntamento futuro o piuttosto che no poi magari qualcuna telefonava telefonato qualcuna qualcuno dicevano che mi dicevano ah si ricorda ma non questo successivamente sì magari telefonavano però io non davo non davo non davo corso ecco queste cose ecco e ci sono state altre cene ad Artore a cui lei ha partecipato essendo presenti ragazze come ho detto all'inizio una volta e succede una volta ero alla partita c'erano 4 o 5 ragazze persone che io non conoscevo abbiamo guardato la partita del Milan l'altra volta c'era una cena io mi sono fermato un quarto d'ora 20 minuti ho mangiato un primo e poi me ne sono me ne sono andato a questa cena era presente anche l'Elemola ho capito lei si spiegava questa massa di giovani donne presenti ma non devo dire che non mi sono non mi sono sorpreso più di tanto nel senso che nel senso che poteva essere una cena una cena di un gruppo di sostenitrici anche perché appena siamo entrati tutti gridavano meno male che Silvio C'è facevano questo canto politico io pensavo avevo l'impressione che fossero quelle cene anche di sostenitrici questo gruppo di persone che aveva anche Berlusconi che ancora sono in azione adesso nella campagna elettorale per sostenerlo moltissime moltissime ragazze anche alle manifestazioni c'erano sempre queste ragazze del partito della libertà gruppi di ragazze anche molto forti che cantavano questa meno male che Silvio C'è ho capito grazie le parti civili hanno domande no grazie gli altri difensori aspetti che vuoi farlo subito prima le donne prego procedo con il controesame perché in realtà il dottor Sera non è un suo test è mio test è anche mio test ha ragione è anche suo test quindi per il momento procedo con il controesame ma in realtà pochissime domande però fa anche l'esame sì 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 non me lo riservo no no anche se se lo riserva noi non glielo consentiamo ma non ce ne ha più ci adeguiamo all'unica pronuncia della Cassazione che dice che fate tutto insieme guardi non l'avrei chiesto va bene noi abbiamo la Cassazione allora lei ha detto che Emilio Fede rappresenta la cena del 19 di ottobre e ha detto che stava in un angolo un po' lontano ecco ma quindi il mio cliente ha partecipato alle danze oppure non ha partecipato a questi no non ha partecipato ai trenini se ne stava seduto tranquillamente quindi lei non ha visto interazioni neanche il presidente Berlusconi il trenino hanno fatto le ragazze giravano attorno al tavolo cantavano ecco quindi lei non ha visto interazioni tra il mio cliente e queste ragazze no io non ho visto interazioni di questo tipo senta c'erano ragazze minorenni? no non proprio non mi ha dato questa impressione l'età media era dai 20 si devo fare una 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 stima per quello che mi ricordo anche perché poi mi guardavo attorno quindi per vedere un po' che tipo di persone c'erano come capita sempre alle cene si guarda c'è chi non c'è eccetera mi sembravano tutti dai 20 22 quelle età lì fra i 20 e i 25 fino ai 30 30 30 35 quelle età lì e in altre occasioni ha visto ragazze minorenni presenti? mai non ho mai visto senta lei ha conosciuto Rubi? no mai non so che sia non l'ho mai vista non l'ho mai vista ancora una domanda per quel che lei sa venivano fatti dei controlli sui telefonini? venivano dati degli avvertimenti agli ospiti? no nulla tutti uscivano a telefonare con questi telefonini in mano come fanno sempre le ragazze molto giovani messaggini vedevo che avevano sempre questi telefonini in mano armeggiavano parecchio quei telefonini ma a qualcuno è stato detto mi raccomando non raccontate no nessuno no nessuno c'è stato un controllo all'ingresso quando io sono entrato c'era il controllo all'ingresso all'ingresso diciamo della villa io sono arrivato con la macchina con il mio autista sono entrato c'era un controllo all'ingresso ma poi poi più niente poi era tutto tutto nessuno senta lei ha detto di essere andato via prima di Emilio Fede ma lei sa quando Emilio Fede è andato via ah non lo so signora non lo so non mi risulta grazie grazie quattro pantano sì senta lei ha detto poco fa di aver ricordato di questa battuta che ha fatto a questa ragazza sì ma l'occasione di questa battuta lei si ricorda come è venuta in altre parole dottor Rossella ricorda altri particolari di questa io mi ricordo di aver fatto questa battuta perché mi ricordo di averla fatta ma ho l'impressione che sia stata fatta mentre si usciva adesso con precisione mentre alla fine della cena ecco devo aver fatto questa battuta perché la signora Tumini non penso fosse seduta vicino a me non mi ricordo nemmeno che ci fosse seduto vicino a me giusto per le domande che le aveva fatto il procuratore prima anche perché le persone sedute vicino a me non mi hanno mai rivolto la parola una cosa abbastanza strana andiamo a cena e la signora Tumini le rivolse la parola in quell'occasione le disse qualcosa fu io a rivolgere la parola alla signora Tumini sa che lei ha un volto d'attrice eccetera e la risposta della signora non me la ricordo non me la ricordo guardi io questo episodio non me lo ricordavo nemmeno più me l'ha ricordato la dottoressa Bocassini e a me è venuto in mente perché mi è venuto in mente e allora ho detto che c'è stato questo episodio pensavo ricordasse qualcosa altro ma va bene così grazie prego possiamo licenziare i test grazie può andare è finito buongiorno buongiorno